Ciao, sono Roberto Uggeri, gioco con la radio, parlo alla radio dal 1982, quando avevo 16 anni. Ho cominciato proprio perché ero curioso di vedere i volti delle voci che ascoltavo alla radio, non solo anche al cinema, però ho cominciato dalla radio. Da lì è nato tutto, dalla passione per il suono, per la voce. L'unico denominatore comune di tutti questi mestieri artigianali che si possono fare con le nostre corde vocali. Ovviamente si può cantare, però io parto da un altro presupposto, dalla recitazione, dall'interpretazione e dalla comunicazione, che è l'elemento più importante di chi fa radio. Ora, tutto è molto soggettivo, ma c'è un'unica vera regola che vale sempre. La comunicazione funziona nel momento in cui chi ascolta capisce quello che sta dicendo, chi parla. Da lì poi servono tutta una serie di particolari sfumature e capacità. Il talento di saper far sentire tutti i colori, tutti i toni della propria voce. E anche la disponibilità di diventare degli interpreti, di mettersi al servizio magari di un testo o di un'idea. Ebbene, quello che cercheremo di sviluppare nei nostri incontri sarà proprio la capacità di comunicare utilizzando tutti i colori della propria voce.